Un saluto a tutti da Juke 65, commentiamo le notizie di mercato arrivate da la splendida terra iberica, la Spagna, soprattutto le minchiate provenienti da Barcellona, dove prenderanno Pjanic, De Sciglio, 25 milioni di conguaglio per Semedo che verrà alla Juve. Fuoriclassone Semedo. Io aggiungo ancora una cosa, secondo me oltre a Pjanic, De Sciglio e 25 milioni da Torino riceveranno anche una fetta di buco di culo tagliato fino vicino all'osso, di questo potete starne sicuro. Una cosa so, da Barcellona per comprare i giocatori devono avere quei soldi in bocca, sia dalla Juve, sia dall'Inter per Lautaro, non venite con cani, gatti e papere perché i cani, gatti e papere ve li tenete, non ne avete grandissimi fuoriclassi da proporre. Quindi, tutte le vostre cazzo di notizie inventate per pilotare Goss, la Juve se vuole un giocatore, vuole Arthur, o se no, magari è disponibile a vendere Pjanic e basta, però glielo dovete pagare 50-60 milioni. Altrimenti si dice, ve ne tornate in Catalogna con le pive nel sacco. Un saluto da Juve 65.